Il sindaco di Napoli 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 Quindi noi vorremmo che tornasse a esserlo E aggiungerei anche i porti turistici Su cui stiamo lavorando Dall'area orientale all'area centrale A quella occidentale di Napoli Perché sappiamo che c'è un'attenzione enorme Anche a livello internazionale Nei confronti del nostro golfo Napoli Capitale del Mediterraneo Nel centro del Mediterraneo Città che guarda occidente come oriente A nord come a sud Quindi il luogo ideale In cui si può puntare proprio sul mare E soprattutto in un momento di difficoltà complessiva Attraverso la risorsa mare A mio avviso si può muovere molto l'economia E creare anche tanti posti di lavoro Diretti e come indotto E poi non ultimo Abbiamo visto come questi nomi importanti Della canteristica campana Girano il mondo per le fiere internazionali Esportano anche quello che è l'immagine di una città Che vuole imporsi per quello che è la sua bellezza Per quello che sono le sue risorse Quindi questo è un dato di fatto Cioè tutto il mondo Conosce Napoli per altri motivi Ma la nautica e i cantieri italiani Che rappresentano l'eccellenza Per quanto riguarda il video in Italia Qua ce n'è tanta E girano un po' tutto il mondo Questo va riconosciuto Sì, la nostra cantierissima è di eccellenza E poi Napoli È soprattutto una città di mare È una città che nella storia È divenuta poi famosa Grazie al suo mare Che ha accolto popoli Ha accolto tradizioni Ha accolto culture Quindi noi puntiamo davvero tanto Sulla risorsa mare Abbiamo fatto bene Perché i numeri ci stanno dando ragione Anche della risposta Alla mostra d'oltremare con Nautic Sud Ma anche tutte le iniziative Che abbiamo programmato Per i prossimi mesi Ci dicono che questa è una strada Fondamentale per la nostra città Noi come non solo mare Seguiamo anche la motonautica Proviamo a rubare Una dichiarazione al sindaco Se riusciamo Vorremmo organizzare una settimana Proprio qua a Napoli Dedicata alla motonautica Sotto tutte le sue forme Sarebbe bellissimo Una festa Proprio con tutte le categorie Della motonautica Magari riuscire a organizzarla Nella città di Napoli Sarebbe fantastico Possiamo contarci Assolutamente sì Noi abbiamo dimostrato Che sullo sport in generale Stiamo in prima linea Ci siamo candidati Ad eventi importanti Abbiamo dimostrato Coppa America Non solo Coppa Davis Giro d'Italia E tantissimi altri eventi Abbiamo dimostrato Di avere grandi capacità organizzative E poi crediamo molto Nel valore dello sport Non solo per quello Che rappresenta in generale Ma anche proprio per il rilancio Di una comunità Per rilancio economico Turistico Dei consumi Dell'immagine Della comunicazione Quindi lo sport è utile A una comunità E noi ci siamo su questo E quindi ci candidiamo A tutto ciò di bello Che si voglia fare Nella nostra città E noi questo messaggio Lo lanciamo anche Alla Federazione Italiana Motonautica Speriamo di riuscire A organizzare proprio qua A Napoli Quello che da tanto tempo Si sogna di fare Una settimana Dedicata anche Alla grande motonautica Qua nella capitale Che noi consideriamo La capitale del mare Delle coste italiane Ringraziamo il sindaco Noi continuiamo il giro Alla Nautica Sud Bene Buona permanenza a Napoli Grazie Grazie a tutti